Sabato 26 agosto sul Rai 1 sarà trasmessa alle 21.30 la finale del Festival di Castrocaro, celebre concorso per nuove voci e nuovi volti giunto la sua sessantesima edizione. Per festeggiare al meglio i 60 anni della prestigiosa Kermess musicale, tanti big che a Castrocaro devono molto saranno presenti sul palco. Da Eros Saramazzotti e Zucchero, passando per Iva Zanicchi, Caterina Caselli, Fiorella Mannoia, Michele Zarrillo o Neck. Problemi però per l'ospite d'onore Patti Bravo, che non potrà fare da madrina ai giovani talenti arrivati in finale a causa di un piccolo incidente avuto in barca a luglio. La ragazza del Piper, splendida 69 anni, ha fatto sapere su Facebook che non potrà essere presente alla manifestazione e si è scusata con i fan. Dopo il mio incidente in barca mi sono stati prescritti 60 giorni e ha spiegato «Continuo a fare il countdown perché mi sembrano interminabili». Per questa ragione, ha scritto l'artista veneta, anche se mi dispiace molto non potrò essere presente a Castrocaro. Ci rivedremo presto, ha aggiunto, perché ho delle grandi sorprese che non vedo l'ora di svelarvi. A sostituire la madrina del festival di Castrocaro è stata chiamata all'ultimo minuto Ivana Spagna.